Ciao a tutti, sono Michele Senesi, il regista del film Bumba Atomica. È estremamente carino e interessante il fatto che il film abbia ancora una vita e stia ancora circolando, nonostante sia stato realizzato parecchi anni fa. Ma magari è tipo il vino che più invecchia, tipo il rum, che più invecchia più diventa buono. È anche un film che fa venire sete, mi dicono, quindi preparatevi una boccia a fianco prima di iniziare la visione. Comunque sì, continua a circolare grazie agli organizzatori di questo evento che permettono la circuitazione di un cinema altrimenti invisibile, ma non perché è più scemo dell'altro cinema o meno professionale, ma perché è più povero. È una possibilità di essere visto, ma magari è più vivo e coraggioso e libero soprattutto. Vi ringrazio della visione, spero vi piaccia e soprattutto se vi piace, seguiteci. Abbiamo un nuovo film che sta andando a spasso in questo periodo, si intitola Il cerchio delle lumache. Informatevi, seguiteci, cercateci nei social network, cercate appunto Il cerchio delle lumache o Pallo Nero Film, che è la nostra casa di produzione. Vi auguro di nuovo buona visione e nulla, supportate sempre il buon cinema e il cinema indipendente, sempre. Giuro che non bevo più Questa è l'ultima volta il top No, non mi imbriago più Manco col fottuto bevero Oh Non mi imbriago più